Se guardandoti allo specchio hai notato dei svuotamenti quei lati della bocca oppure al termine di una dieta hai riscontrato che il viso ha perso un po' di volume questo esercizio può fare al caso tuo, si chiama palloncino e quello che devi fare è gonfiare la bocca di aria, tappare con tre dita in modo che l'aria non esca e quando premi allarga leggermente le dita così andiamo a stendere il labbro superiore ed evitiamo che si creino ulteriori lunghe, dopodiché premi sull'altra guancia come se volessi spostare l'aria nell'altra guancia ma l'aria deve rimanere anche qui, quindi poi dopo aver tenuto per 20 secondi in questo lato cambi mano e ripeti la stessa cosa sull'altra guancia, questo esercizio lo puoi fare dalle due alle tre volte per ogni lato, ciao